Ciao a tutti e benvenuti in una nuova lezione del corso di Google Analytics. Oggi vedremo analisi comparativa con canali del tuo settore. Cosa vuol dire tutto ciò? Eccoci a Google Analytics. Innanzitutto è di nuovo una sottovoce di pubblico. Apriamo la voce pubblico e andiamo a vedere che c'è una voce che si chiama analisi comparativa. La clicchiamo e andiamo a cliccare a questo punto su canali. Quindi questo canali ci mette in comparazione come sta andando il nostro sito in confronto a dei siti del nostro settore. Come fa a sapere il nostro settore? Gliel'abbiamo detto durante la configurazione iniziale. Vi ricordate che avevamo scelto dalla tendina, avevamo inserito un sito che parlava di vino, avevamo scelto cibi e bevande. Però fosse stata un'agenzia di viaggi, per esempio avremmo potuto scegliere viaggi e così via. In questo caso ci sono delle analisi comparative che vengono confrontate e che cosa guardiamo? Tipo risultati a pagamento, risultati organici, quindi quello che è proprio la SEO, quello che succede nei social, ricerca diretta, cioè quelli che sanno il nostro link, il nostro sito e digitano direttamente www.nomedelsito.com.it, quello che è. Referral sono i link da esterni, other, come tutte le volte che c'è other non sappiamo da dove provengono queste cose, display, sono sempre annunci pubblicitari e email è quello che facciamo tramite newsletter, email marketing, altre pubblicità che sono altri tipi di pubblicità, per esempio da affiliati, eccetera. Qui questa specie di tabella ci aiuta a capire dove stiamo andando bene e dove non stiamo andando bene. Quadretti rossi assolutamente possiamo migliorare, quadretti verdi stiamo andando molto bene. Bene, ho preso i dati di un altro sito dove non c'è nessun annuncio pubblicitario riguardante questo sito. Possiamo andare a vedere che per la ricerca organica stiamo andando in media bene su queste voci in bianco e siamo in crescita rispetto ai canali concorrenti, stiamo andando molto bene per quanto riguarda i nuovi utenti perché normalmente nel periodo di riferimento considerato i nuovi utenti sono di meno e invece per esempio si può molto migliorare per quanto riguarda i social perché tutte le voci quadrettate di rosso sono migliorabili. Anche se poi, se andiamo ad analizzare per esempio la frequenza di rimbalzo vediamo anche che anche se sui social abbiamo pochi link comunque sono link validi perché le persone poi si fermano parecchio sul post perché la durata è lunga e anche la frequenza di rimbalzo è veramente bassa e quindi analizzateli nel completo questi dati. Analisi comparativa può essere divisa anche per località e entrando qui capiamo che i problemi in rosso sono dati quasi tutti da questo spam quindi possiamo tranquillizzarci perché vediamo che invece per quanto riguarda le visite dall'Italia va tutto bene o mediamente bene. Analizziamo anche i dati dell'analisi comparativa in base ai dispositivi per renderci conto dove si può migliorare. Nella parte in alto della pagina vediamo che il nostro sito è stato etichettato nella categoria cibo e vino e il confronto tra quello che succede nel nostro sito la linea questa blu scuro avviene con la linea questa azzurro chiaro che è la linea delle categorie dei canali di settore. E anche per questa lezione è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!